Grazie a tutti. Quindi siamo dopo Frosinone. Siamo subito dopo Frosinone. Esattamente. E adesso siamo per fare un bel fine nel quale decidiamo se arrivare fino a Orte e uscire oppure arrivare fino a Roma Nord. Eh, cosa vogliamo fare? Qui vediamo che c'è anche Diego che è molto, come dire, stenta a trattenere l'emozione per questa scelta. È vero Diego? Certo. Va bene. Ditelo con parole vostre. Certo. Vabbè, dati. Allora, vediamo un po', guardiamo un po' questa cartina e vediamo. Noi adesso o arriviamo sotto Roma, facciamo, come dire, parte del raccordo e già usciamo in questa zona qui, oppure arriviamo fino a Orte, sì, Montefiascone, Bolsena, Acquapendente. Quello è lungo il viaggetto. Noi alle quattro dovremmo stare lì, vabbè, possiamo anche arrivare più tardi, non è un problema. Amici, la cosa importante è che per stasera arriviamo lì perché dobbiamo andare alla toppa questa sera. Ahia, ma quello che è veramente particolare è l'atmosfera di gioia e di avventura che si vive, è unica, è unica. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.